Maximo Ibarra, CEO di Engineering, che si occupa proprio di trasformazione digitale delle aziende in tutto il mondo, con 70 sedi. Già CEO di Win3, amministratore delegato di KPN e di Sky Italia, nel 2021 ha presieduto la Task Force B20, uno dei più autorevoli engagement groups istituiti dal G20. Allora, la tecnologia come driver economico e sociale, questo è un momento in cui necessariamente si deve affrontare una trasformazione aziendale, quali sono i punti cardine di questa trasformazione nelle aziende? La trasformazione sarà dirompente per mille motivi, direi che l'aspetto essenziale è quello di cominciare ad immaginare un processo decisionale di implementazione che è radicalmente diverso rispetto a come era prima. Quindi prima le aziende erano molto lineare, gerarchiche, con dei processi piuttosto lunghi per quanto riguarda lo sviluppo dei prodotti e servizi. Oggi invece bisogna accorciare questa catena del valore, dando più responsabilità e quindi decentrando quelli che sono i centri decisionali. Questo è un cambiamento radicale perché significa che l'intera piramide aziendale verrà cambiata e dal punto di vista della responsabilità questa sarà molto più delegata a chi è effettivamente sul campo. Con l'introduzione dell'intelligenza artificiale ma anche di agenti autonomi all'interno delle stesse aziende, quello che oggi è chiamato il capo delle risorse umane verrà affiancato anche da un capo delle risorse non umane oppure dovrà, come dire, tener conto di un ecosistema completamente diverso in cui agenti prendono decisioni? Secondo me non è tanto far prendere delle decisioni a delle piattaforme o al software, quanto piuttosto farsi affiancare da queste soluzioni. Ogni posizione aziendale, ogni responsabilità avrà il suo copilota, il che significa che anche chi è responsabile delle risorse umane avrà la disponibilità di una piattaforma, un algoritmo, quindi un'intelligenza artificiale, che gli permetterà di poter comprendere alcuni fenomeni all'interno dell'azienda molto più velocemente. Come viene effettuata la formazione che a questo punto abbiamo capito che deve essere più che continua perché appunto ogni mese esce fuori una novità che viene poi integrata nelle aziende? Una formazione che porti poi il copilota a restare un copilota e non diventare noi umani i copiloti, diciamo, degli agenti autonomi? Secondo me ci sono due aspetti anche qui. Si parla del long life learning, quindi fondamentalmente una formazione continua, sempre. È chiaro che ogni figura professionale dovrà essere, o cercare di essere il più possibile, in linea con quelle che sono le nuove tecnologie. La formazione quindi non riguarderà soltanto la capacità di poter capire l'intelligenza artificiale, ma come poter utilizzare l'intelligenza artificiale cercandola di sfruttare al meglio visto che poi alla fine, quando si parla di aziende, si parla di ecosistemi fatti da individui e da persone. Noi abbiamo l'intelligenza artificiale, il cloud, la cyber security, l'internet of things, sarebbe l'internet delle cose e ovviamente anche tutta la parte legata all'advanced analytics, che dal mio punto di vista è la materia prima. Queste tecnologie lavorano insieme per riuscire a fare una predizione il più accurata possibile, molto tempo prima. Quindi attraverso i sensori si catturano delle informazioni che possono riguardare la qualità del suolo, delle infrastrutture idriche, dei bacini e attraverso queste informazioni riuscire a capire qual è il momento critico che possono attraversare attraverso, non so, concetti come la perdita di acqua piuttosto che bacini che non si riempiono bene e poter sfruttare queste risorse in maniera molto più accurata rispetto a prima. Nell'ambito della salute? Nell'ambito della salute diciamo che le applicazioni sono innumerevoli. La medicina di precisione riesce sostanzialmente a mettere insieme anche informazioni di altri pazienti, quindi un mio quadro diagnostico può essere confrontato con i quadri diagnostici di tanti altri pazienti e capire se ci sono degli scarti oppure no. Ora, questo permette di accelerare un massiasi tipo di intervento medico, magari anche di poter fare un intervento molto prima che possa verificarsi un problema per la salute del paziente. Però la cosa più importante è che attraverso i dati che possono arrivare da, diciamo, il corpo umano, il mio corpo umano, e confrontati con una banca dati gigantesca di pazienti che hanno caratteristiche simili, si riesce sostanzialmente a capire quale potrebbe essere la migliore terapia, la migliore diagnosi legata a quel paziente. Questo è un caso. Un altro caso invece molto interessante è quello che riguarda la possibilità di poter accelerare qualsiasi tipo di impatto di una nuova terapia sulle cellule. Se io attraverso capacità quantistica e intelligenza artificiale posso compiere miliardi di test in unità di tempo molto ristretta, è chiaro che alla fine riesco ad arrivare alla soluzione molto prima rispetto a come si faceva poco fa.